Rosario Trefiletti che è presidente dei Feder Consumatori diciamo replicherà credo alle cose che diranno hanno già cominciato a dire Bittarelli e Racca ci darà anche il suo giudizio complessivo anzi dancelo subito un titolo anche tu su queste liberalizzazioni per i consumatori Era ora, era ora, si poteva anche fare di più si deve fare di più finalmente aria nuova in un paese che ha bisogno non solo di liberalizzazioni ha bisogno anche di modernizzazione noi dobbiamo guardare alle nuove generazioni bene quindi, ma ripeto alcune cose non ci soddisfano perché non si è avuto il coraggio di fare un'operazione seria portata sino in fondo Allora Nicolò, il cittadino che dice su questo? Cosa si aspettava per quanto riguarda i taxi? Ne abbiamo detti tante in questi giorni, queste settimane Cittadino si aspetta essenzialmente un miglioramento della qualità del servizio quindi più taxi a disposizione questo è evidente al di là di tutto e seconda cosa naturalmente una concorrenza maggiore minori tariffe queste sono le cose che fondamentalmente non l'ha ottenuto diciamo attualmente non c'è io anche io leggerò le norme capirò cosa significa l'autorità però il punto vero io lo voglio dire fino in fondo con Bitarelli sa benissimo come noi è da anni che sosteniamo che si possono trovare delle soluzioni che convergano nell'utilità un po' di tutti cosa voglio dire? insomma noi dobbiamo aumentare l'offerta in alcune città certo in altre città magari no ma bisogna aumentare l'offerta di mercato più taxi e quindi ampliare il servizio due c'è un problema anche di remunerazione per quanto riguarda il taxi soprattutto in una fase di crisi come questa oggettivamente terza cosa c'è un problema che a me e ai cittadini francamente interessa poco interessa molto loro e sono le licenze allora noi sosteniamo da tempo ma perché non si fa una seria contrattazione dell'utilizzo del proprio mezzo quindi non con l'aumento delle licenze ma con l'aumento del proprio mezzo su più turni in modo da dare una risposta ai cittadini dare una risposta di lavoro a se stessi ai tassisti quindi penso anche ai tassisti e poi anche l'intangibilità economica delle licenze chiudo dicendo queste norme questo non è stato preso no ci sono già il fatto è che non sono state utilizzate ed è questo che colpevolizzo un po' i tassisti non sono state utilizzate allora dei sindaci in alcuni casi non utilizzando queste norme hanno aumentato il numero delle licenze aggravando per così dire il fatto che c'è una remunerazione inferiore per quanto riguarda la domanda e l'offerta di mercato ecco questa è una colpa che voi avete ve lo dico francamente mi auguro credo che abbiate aperto con il governo in un certo spiraglio su questo se troppo non lo so se troppo questo lo vedete voi sentiamo come risponde a questa cosa ma mi auguro che si faccia e si arrivi fino in fondo su questo diciamo che le farmacie sono sufficienti c'è in parte una convergenza ma su un dissenso di fondo la convergenza è che noi comprendiamo benissimo questa questione delle 5.000 farmacie in più e il ragionamento della dottore Saracca non fa una piega il problema vero è un altro noi avremmo voluto un altro processo di liberalizzazione che chiediamo anche qui da anni per la verità una prima fase è già stata attuata che sono i cosiddetti farmaci i farmaci di fascia C una parte di quelli sono già stati diciamo così spostati spostati non tutti si è aperto questo mercato nelle para farmacie e nei corner dei supermercati con il farmacista presente in modo da ampliare il servizio il cittadino poteva trovare le sue pilloline in altri posti che non fossero le farmacie quindi migliorava il servizio in più c'è stata una diminuzione di quei costi da uno studio atto nostro fatto proprio dall'antitrust con questo inizio di liberalizzazione no guardate la cosa dei posti tre filetti non te la faccio dire no no devo terminare no non te la faccio dire perché io ho sempre detto che se il prezzo è fisso la farmacia fa il prezzo fisso se il prezzo è liberalizzato anche la farmacia ha tue politiche di prezzo così come le hanno in altri canali non mi faccio dare questa cosa sui prezzi non me la faccio dire allora io sto parlando della diminuzione dei prezzi che è stata certificata dall'antitrust esiste anche un bellissimo libro del professor Catricalà dove dice queste cose qui che conferma la diminuzione del 18% dei costi e quindi dei prezzi di questi particolari farmaci non di tutti i farmaci allora detto ciò che saranno stati fatti se diminuzione è di infatti nei canali in cui viene fatta compresa la farmacia anzi per prima ma sì certo ma sì ma figura anche nelle farmacie ma anzi il 18% è sceso in tutto il settore certo anche nelle farmacie quindi bisognava andare in quella direzione piuttosto che aprire altre farmacie c'è stato un aumento dell'occupazione formidabile migliaia di finalmente di giovani che hanno potuto diventare farmacisti nei luoghi appunto dove si sono aperte queste possibilità e allora noi avremmo voluto ma cosa stai dicendo? avremmo voluto come cosa sto dicendo? sono dati certificati non dalla Feder Consumatori dall'Antitrust da tutte le associazioni e quello si continuano a spostare risorse dalla farmacia verso la grande istituzione verso altri canali comunque stavo dicendo un'altra cosa noi abbiamo fatto una prima fase di liberalizzazione abbiamo ottenuto quello che abbiamo ottenuto migliore servizio aumento notevole dell'occupazione di giovani farmacisti che altrimenti non entravano ma per cortesia mi lasci finire quello che è avvenuto sto raccontando quello che è avvenuto sono entrati giovani farmacisti che non erano figli di farmacisti tanto quelli intenderci io non sono figlia di farmacisti sono il presidente della fama non sono figlia di farmacisti allora poi è diminuito il costo di questi farmaci per tutti per le farmacie per i corner e per le parafarmacie noi avremmo voluto ed è una rivendicazione da anni che tutti i farmaci di fascia C che sono una quota una quota diciamo abbastanza marginale dell'intero costo del farmaco sono circa attorno a 3 miliardi e che comunque non viene tolto a tutte le farmacie in parte veniva spostato su altre cose quindi questa era la vera liberalizzazione su questa cosa qui noi siamo francamente un po' delusi perché non è avvenuto tra l'altro anche i rappresentanti delle parafarmacie sono contro questo decreto perché Monti ci aveva promesso che i farmaci di fascia C sarebbero usciti dalle farmacie oggi c'è stato un completo stravolgimento del progetto e questo decreta la morte delle 3 mila e 800 piccole parafarmacie perché le nuove 5 mila farmacie ne determineranno una fine quindi su questo siete uniti voi dite che 5 mila farmacie determineranno il collasso di quelle già existenti anche le parafarmacie sostengono quello e in ogni caso abbiamo fatto addirittura un monumento con il cittadino che ferma un taxi io spero che non si prenda solamente a mano come modello il taxi no come modello sono tutte persone sfruttate spesso che operano in astruzione l'ultima battuta è se facciamo la sequenza di queste cose allora vorrei tanto che loro pagassero le tasse un pochino di più di quanto paga uno un operaio 12 mila 13 mila euro no cioè almeno questo questo è un dato che è uscito l'altro giorno no no è doveroso precisare almeno questo perdonami per l'attuale questa intellettuale che ti riconosco allora sappiamo tutti la stampa che poi enuncia dei dati però senza magari illustrare il dovere i tassisti ci sono tassisti di Roma di Milano di Bologna ci sono tassisti di Gioiella che è il paesino mio in Umbria il tassista di Gioiella è il mio paesino in Umbria che è un paese di 400 abitanti fa una corsa ogni mese se tutto va bene quando c'è la vecchietta che va a riscuotere la pensione e magari fa un altro mestiere c'ha la licenza del tassi ma sono tutti insieme quello lì denuncia magari 500 euro all'anno o 1000 euro all'anno se fa una media viene 11 mila euro ma il tassista che noi abbiamo quel riferimento pensiamo subito a quello delle grandi città Roma, Milano, Bologna, Trino denuncia dai 24 e i 30 mila euro studi di settore ci dobbiamo fermare una precisazione i notai in più sono una precisazione allora i notai in più sono 500 da subito e non 5000 un'ultima cosa al presidente Federfarma faccio vedere il calchello subito 500 notai in più